La riqualificazione dell'involucro edilizio. Questo il titolo del workshop organizzato dall'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Treviso in collaborazione con Action Group. Svoltosi il 20 maggio nel prestigioso Best Western Premier BHR Treviso Hotel, l'evento è in fase di accreditamento per il rilascio di 8 crediti formativi per gli architetti. L'azienda nasce negli anni 50 come produzione di pavimenti in legno. Negli anni si è evoluta fino alle ultime generazioni, siamo già la quarta generazione. Per quel che riguarda la costruzione e la realizzazione di pavimenti in legno certificati esclusivamente prodotti in Italia. Siamo un'azienda completa con tutte le certificazioni possibili e immaginabili che il mercato richiede. La produzione è con due stabilimenti, una cappella maggiore che è il parchettificio Carbellotto, quello storico, e l'altra sede che è nata nel 2003 che è la Master Floor, dove abbiamo anche all'interno della Master Floor gli impianti di verniciatura all'acqua e dell'olio UV. Il prodotto nasce esclusivamente come tecnologie, come innovazione, come costruzione, tutto all'interno dei nostri stabilimenti. Dall'arrivo della materia prima e semilavorato, all'essiccazione, al taglio della cartella, all'incollaggio, le profiliature, tutte le lavorazioni di pelature artigianali e via dicendo, tutte le varie lavorazioni che vengono eseguite. Facciamo un'infinita gamma colori, specialmente sulla base del rover, che è quello che si presta a fare i maggiori colori possibili, immaginiamo. Siamo arrivati a circa 32 finiture per quel che riguarda il rover come gamma colori. Riusciamo a gestire anche i colori a campione su richiesta del cliente. Questo ci permette di prendere all'interno del mercato, sia dal nuovo, sia dalla ristrutturazione. Abbiamo una gamma prodotti che copre gli spessori del 10, 14 e 16 mm, due strati e tre strati. Diciamo che l'azienda è completa al 100%. La gamma dei nostri prodotti copre qualsiasi tipo di formato, spessore e finitura. In più abbiamo la finitura a campione, che è importante per l'architetto, perché l'architetto viene da noi, sceglie un colore, che lui se lo vuole personalizzare, sceglie un tipo di lavorazione che noi siamo in grado di fare su qualsiasi tipo di materiale. E questo è un punto di forza per l'azienda. Non solo il punto di forza, è il discorso della verniciatura all'acqua, tutto a base acqua e dell'olio UV, che ci permette di fare qualsiasi tipo di lavoro anche con il discorso della bioedilizia, dove gli architetti sono molto attenti e molto interessati. Non solo, perché riguarda le certificazioni, dalla certificazione CI dei produttori italiani, alla certificazione CE, abbiamo anche la certificazione sulle verniciature e sull'olio, la CFLS1, che è importante per mettere il nostro materiale dall'abitazione privata all'abitazione civile, e il discorso della formaldeide, cioè che il nostro prodotto rientra nella normativa europea per quel che riguarda di tossicità del prodotto, ovvero sia il minimo consentito per legge. E questo fa sì che l'architetto scelga un prodotto di qualità, ma che sia anche salutare per quel che riguarda dove viene dislocato, dove viene messo.